salve a tutti benvenuti nel canale di passione uncinetto oggi realizzeremo insieme questa pochette clacce con chiusura a molla utilizzatissima soprattutto quest'anno che io ho voluto realizzare con il punto a nido d'ape quindi un punto molto particolare utilizzando anche la lavorazione della maglia bassa termica che vi ho fatto vedere nel video primi passi all'uncinetto che trovate qui sul canale quindi abbiamo utilizzato diversi metodi io ho utilizzato un una chiusura di 16 cm però voi potete realizzarla con una chiusura più grande più bassa più alta vi potete comunque sbizzarrire le tecniche base ve le spiego qui appunto nel video potete inserire una catena e portarla a spalla o semplicemente portarla a mano prima di presentarvi i materiali e metterci al lavoro vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video in più vi volevo invitare a seguirmi sulle mie pagine facebook instagram e tik tok e lì cercherò con delle storie dei post di anticipare ciò che porterò qui sul canale in più faremo dei sondaggi per decidere insieme i prossimi progetti se il video vi piace lasciate un pollice all'insù e ora andiamo alla presentazione dei materiali per questo progetto utilizzerò cordino swan black verde lavorerò con uncinetto numero 4 e poi avrò bisogno una chiusura a molla e io sto utilizzando quella di 16 centimetri iniziamo subito aprendo la chiusura qualsiasi misura di chiusura avete non fa differenza praticamente la dovete aprire anche se ne avete una più grande la girate questa è la parte laterale e dobbiamo fare delle catenelle per la larghezza della borsa quindi per coprire questa parte laterale quindi facciamo il cappietto e iniziamo a fare le nostre catenelle ho realizzato 20 catenelle guardate le sistemo così ed è la larghezza esatta quindi se voi avete una chiusura a molla più grande fate le catenelle per quanto è la larghezza della chiusura ora iniziamo subito facendo il la base la facciamo con il punto basso termico quello che vi ho fatto vedere nel primi passi del video precedente quindi entriamo con l'uncinetto nella prima maglia che abbiamo a disposizione e iniziamo a fare una riga di maglie basse prendendo solo e guardate la solina esterna quindi in questo caso io farò 19 maglie basse perché ho 20 catenelle iniziali voi in base alle catenelle che raggiungete fate il poi le maglie basse una maglia bassa per ogni catenella arrivati qui all'ultimo punto facciamo una catenella per girare il lavoro entriamo nella prima solina e nella prima nella parte di sotto e facciamo la maglia bassa e ora proseguiamo facendo una maglia bassa prendendo le due asoline che ci ritroviamo di fronte per tutto per tutta la nostra catenella quindi la nostra lavorazione e continuiamo facendo il punto basso termico fino a raggiungere quindi siamo partiti da questa parte dobbiamo fare tutta la base fino ad arrivare alla lunghezza desiderata quindi ci facciamo questa lavorazione e ci vediamo quando l'abbiamo terminata fatta la lavorazione guardate ho raggiunto la misura della chiusura a molla e fatto l'ultimo giro di maglie bassissime e come vi ho fatto vedere nel primi passi all'uncinetto di maglia bassa termica ci ritroviamo a questo punto e dobbiamo fare ci dobbiamo rialzare con una catenella ora dobbiamo fare un giro per tutto il perimetro del nostro rettangolo di maglie basse ora entriamo nella prima solina quella dell'angolo che abbiamo a disposizione facendo una maglia bassa una catenella e una maglia bassa nello stesso punto così e ora dobbiamo la vera lavorare una maglia bassa per ogni punto che abbiamo a disposizione quindi prendiamo guardate abbiamo tutte le asoline dei giri fatti delle righe e dobbiamo prendere queste asoline e fare una maglia bassa per ogni punto continueremo nella parte sotto qui nell'angolo a fare maglia bassa catenella e maglia bassa qui una maglia per ogni maglia qui sempre l'angolo continueremo così sempre l'angolo fino ad arrivare alla fine arrivati qui alla fine entriamo nel punto dove abbiamo fatto la prima catenella facciamo l'ultima maglia bassa dopodiché entriamo nel primo punto dell'angolo prendendolo da dietro portiamo la solina nella parte dietro così entriamo qui dove si è generato dove c'è solo questa piccola solina prendiamo la solina e facciamo passare il filo nella solina e lo portiamo davanti una catenella e questo sarà il nostro primo punto quindi il contorno l'abbiamo fatto quindi ora iniziamo la lavorazione del punto della nostra borsetta ho lavorato altri due giri di maglie basse guardate abbiamo terminato insieme il primo giro e poi ho fatto due giri completi di maglia su maglia a punto basso qui arrivati alla fine entriamo guardate questa è la maglia iniziale entriamo in questa maglia prendiamo la solina la tiriamo all'interno entriamo qui dove si creano queste due asoline prendiamo entriamo nella solina che abbiamo tirato tiriamo il filo e facciamo passare il filo in tutte e due catenella e abbiamo creato la prima maglia bassa ora iniziamo il nostro punto di lavorazione qui ci ritroviamo 12 e le tre mai tre maglie dell'angolo però questo è indifferente perché vi potete ritrovare anche nella parte laterale e non è un problema nella prima maglia in corrispondenza dobbiamo scendere di due maglie quindi dobbiamo lavorare alla base della del secondo giro che abbiamo fatto quindi dopo il primo giro scendiamo prendiamo il filo lo tiriamo così e facciamo una maglia bassa allungata avete visto che qui si è creato tipo una x la cerchiamo di evitare quindi cosa facciamo dopo aver tirato il filo usciamo l'uncinetto e lo inseriamo in modo tale questa queste linee vengono non vengono accavallate così nel punto seguente facciamo una maglia bassa nel punto successivo sempre alla base qui entriamo tiriamo la nostra maglia usciamo con l'uncinetto rientriamo e facciamo la maglia bassa queste sono maglia bassa allungata maglia bassa continuiamo così quindi nel giro nel punto seguente lavoriamo una maglia bassa nel punto successivo sempre sotto saltiamo 12 andiamo sotto il punto una maglia bassa allungata leviamo l'uncinetto e lo rimettiamo nella parte dritta quanto le due soline ci vengano bene maglia bassa nel punto seguente mai allungata sempre qui sotto nel punto successivo e continuiamo così fino ad arrivare alla fine del giro arrivati qui alla fine ho fatto l'ultimo punto e come vedete questo è il mio primissimo punto e questo è questa è la maglia alta e la ma scusate la maglia bassa allungata entro in questo punto dalla parte dietro mi tiro la solina così entro qui quindi in corrispondenza della maglia bassa che ho nella parte sotto prendo il filo lo porto all'interno e faccio una catenella e quindi questa è la mia prima maglia bassa per tutti i giri devo fare sempre questa chiusura e questo inizio dopodiché in questo secondo giro vado qui in corrispondenza proprio dell'ultima solina lavorata quindi una parte di asolina della maglia bassa allungata e una parte dall'altra parte prendo faccio passare il filo tiro un pochino e faccio la maglia bassa maglia bassa nella maglia successiva quindi al centro delle mie due asoline della maglia di nuovo prendo queste due asoline faccio passare il filo tiro un pochino maglia bassa qui in corrispondenza nella prossima maglia lavoro una maglia bassa asolina asolina prendo il filo la faccio passare lo faccio passare e chiuda maglia bassa qui lavoro una maglia bassa così e continuo in questo modo per tutto il giro quindi già queste due righe poi le dobbiamo ripetere per tutti i giri seguenti facciamo questo giro e ci rivediamo alla fine arrivati qui alla fine guardate abbiamo le ultime due asoline quindi dopo aver fatto la maglia bassa le prendiamo le prendiamo le lavoriamo quindi facciamo la maglia bassa tiriamo un pochino la codina qui abbiamo il primo punto guardate entriamo qui abbiamo il primo punto entriamo nel primissimo punto che abbiamo a disposizione prendiamo la solina e la portiamo dietro entriamo qui al centro nella solina e chiudiamo facendo una catenella e abbiamo la nostra prima maglia bassa anche questo di questo giro lo dobbiamo ripetere per tutti i giri come vedete guardate la nostra borsetta sta prendendo forma si sta rialzando con il punto ora dobbiamo semplicemente ripetere quello che abbiamo fatto nel primo giro quindi si ripete primo e secondo giro qui arrivati a questo punto devo entrare direttamente qui al centro delle guardate di questo triangolino quindi sotto entro mi prendo il filo lo porto sopra così esco con l'uncinetto e lo metto nella parte dritta e faccio la maglia bassa allungata quindi punto basso punto basso allungato qui al centro dove c'è la maglia bassa del giro precedente lavoro la maglia bassa continuo entrando qui nella parte sotto prendo il filo me lo porto sopra guardate lo metto nel dritto e faccio la maglia bassa allungata qui al centro facciamo la maglia bassa quindi continuo a fare questa lavorazione per tutto il giro e nel giro successivo devo prendere direttamente le asoline e unirle fare la maglia bassa nella parte centrale come abbiamo fatto nel giro precedente quindi si ripetono sempre questi due giri inizio e fine è sempre uguale quindi per ogni inizio e fine dovete entrare da questa parte questa vi ricordo che la prima maglia bassa entrate nella maglia successiva e poi fate la chiusura con l'inizio sempre sulla maglia bassa continuiamo questa lavorazione fino a raggiungere l'altezza della nostra chiusura a molla quindi continuo continuiamo io vi farò sapere in centimetri quanto mi sono rialzata e ci rivediamo quando l'abbiamo terminata mi sono rialzata per circa 13 centimetri guardate prendiamo le misure insieme dalla parte alta alla parte bassa vi ricordate che avevo fatto dei giri di maglie basse sono circa 13 centimetri e l'ho fatta infatti leggermente più altina di quanto vi avevo detto però voi questo è del tutto facoltativo perché la potete fare o più alta o più bassa a vostro piacimento ora lavoreremo una maglia bassa per ogni maglia per tutto il perimetro della nostra borsa la prima solina la prima maglia l'abbiamo fatta entriamo nel secondo punto nel terzo lavorando in tutti i punti una maglia bassa così che prepariamo la borsetta all'inserimento della nostra chiusura terminato il giro ci ritroviamo all'ultimo punto dopo averlo lavorato tagliamo il filo e facciamo la solina di chiusura quindi lo facciamo passare da questa parte nella parte dietro dopodiché prendiamo prendiamo anche una maglia dietro ed entriamo al centro dell'ultima solina e ci portiamo il filo e abbiamo fatto l'ultima a solina di chiusura l'ultimo punto ora il filo dietro lo nascondiamo fra le maglie così che lo tagliamo prendiamo nella parte dietro entriamo in diverse maglie e potete aiutare anche con un uncinetto più piccolo oppure con un ago grosso e ci portiamo il filo così lo facciamo passare così lo nascondiamo e nello stesso tempo iniziamo la lavorazione per applicare la nostra chiusura a molla ok ora tagliamo nuovamente il filo prendiamo l'accendino bruciamo le estremità guardate lo attacchiamo ora siamo pronte ad applicare la chiusura prendiamo la nostra chiusura a molla tenete conto che deve chiudere così nella parte in dentro quindi la sistemiamo prima di farlo però pieghiamo la borsa completamente a metà quindi avete il fondo quindi vi potete regolare meglio la pieghiamo completamente e prendiamo le due estremità e le marchiamo con un marca punti quindi prendiamo un marca punti da questa parte e segniamo le estremità da questa parte dopodiché lo facciamo pure dall'altra parte quindi ne prendiamo un altro e lo sistemiamo da quest'altra parte applicati marca punti per scrupolo per sapere comunque se abbiamo applicato bene e abbiamo centrato le parti laterali potete contare i punti da una parte dall'altra che dovrebbero risultare uguali io in questo caso 42 maglie da una parte 42 maglie dall'altra non contando quelle la dell'estremità ora siamo pronti ad mettere il nostro la nostra chiusura e qui dove ci sono i marca punti prendiamo un filo in questo caso io ho tagliato un pezzetto di filo rosso tanto per farvi capire meglio entriamo nelle nella maglia marcata ci tiriamo l'estremità del filo così prendiamo la chiusura e leghiamo la chiusura alla parte io farò un fiocchetto ok da una parte e la stessa cosa faremo dall'altra prendiamo un altro pezzetto di filo e facciamo la stessa cosa dopo aver sistemato la parte della chiusura nelle nelle parti laterali iniziamo la cucitura la cucitura si può fare in diversi modi potete rivestire con maglie basse direttamente prima la chiusura a molla con e poi si cuce con maglia bassissima potete utilizzare ago e filo noi in questo caso la applicheremo direttamente con le maglie basse trattandosi di un cordino lavoreremo due maglie basse per ogni maglia che abbiamo a disposizione quindi facciamo un cappietto al cordino stringiamo entriamo nel primo punto utile entriamo guardate nel cappietto e ce lo tiriamo all'interno e facciamo la prima maglia bassa entriamo sempre nello stesso punto e lavoriamo la seconda maglia bassa il la codina la mettiamo allineata così ce la lavoriamo entro nel punto successivo e lavoro 1 e sempre nello stesso punto 2 maglie basse nel punto successivo faccio la stessa cosa tutto questo fino ad arrivare guardate alla all'altra parte della chiusura quindi lavoriamo due maglie basse per ogni maglia e ci rivediamo quando arriviamo all'altra estremità della chiusura arrivati qui alla chiusura mi ritrovo guardate sono nel punto precedente la chiusura appunto di centrale e punto successivo quindi cosa faccio entro nel punto precedente prendo la solina e la faccio passare direttamente facendo una maglia bassissima entro nel punto segnato che ora leverò sia filo che marca punti e faccio una maglia bassissima nel punto successivo faccio la stessa cosa maia bassissima quindi ho lavorato tre maglie bassissime qui dove c'è il la chiusura propria della molla per una questione di praticità levo anche il marca punti e ora continueremo guardate prendo il filo me lo porto vado sempre nello stesso punto e faccio una maglia bassa quindi continuo da questa parte a fare la stessa lavorazione che ho fatto finora quindi due maglie basse per ogni punto all'occorrenza voi ve ne accorgete mentre che lavorate le maglie se voi riconoscete che c'è un punto dove magari due maglie vengono troppe ne lavorate una e prima di continuare vi voglio far vedere guardate vedete questo cordoncino poi alla fine lo dobbiamo girare nella parte sotto guardate così e questa è la lavorazione che abbiamo fatto finora la lavorazione è venuta compatta quindi ha ricoperto perfettamente la nostra chiusura quindi continuiamo in questo modo per tutta questa parte infine ad arrivare qui alla fine e faremo insieme la parte finale arrivati qui alla fine qui ho fatto la stessa lavorazione con le maglie bassissime qui vado negli ultimi punti quindi ho gli ultimi due punti da lavorare lavoro sempre due maglie basse per ogni maglia lavoro l'ultimo punto dopodiché termino la lavorazione l'ultimo punto infatti il secondo lo lavoro a maglia bassissima quindi mi mantengo la maglia qui sotto e mi sistemo la lavorazione come ho fatto in questa parte la sistemo tutto nella parte sotto e questa è tutta la chiusura applicata qui ora taglieremo il filo lo sigilleremo e lo faremo passare in fra le maglie fin quando lo fermeremo poi che sempre con l'accendino e abbiamo terminato la nostra l'applicazione della nostra chiusura a molla quindi ora tagliamo il filo entriamo sempre qui nella parte di interna entriamo nel primo punto e rientriamo guardate entriamo con l'uncinetto nell'ultimo punto ci prendiamo la solina ok e ora qui la facciamo la facciamo passare in in un po di maglie dopodiché taglieremo il filo e lo sigilleremo con l'accendino ok Ora che l'abbiamo terminata chiudiamole insieme così e questa è la nostra borsetta guardate che carina da tutte e due le parti appunto nido d'ape veramente carina il nostro fondo quindi si appoggia perfettamente a terra molto stabile qui nelle parti laterali possiamo inserire la catena e quindi portarla anche a spalla oppure portarla semplicemente così a mano è piccolina perché la chiusura è di 16 centimetri però si può fare con lo stesso metodo e con lo stesso punto si può fare più grande il video è terminato spero che vi sia piaciuto se così lasciate un mi piace al video e condividetelo se avete delle domande da fare commentate qui sotto o sulla mia pagina facebook o instagram passione uncinetto io sarò lieta di rispondervi vi ringrazio come sempre di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video